Siamo orgogliosi di essere per la seconda volta main sponsor di questo evento che da quest'anno cambia nome, si chiama Premio Fair Play Menarini. È un'integrazione vera tra i valori nostri e del premio e Menarini è orgogliosa di essere portatrice di questi valori anche nel mondo dell'impresa, nel mondo del lavoro, nel mondo che ogni giorno ci vede impegnati. Credo che sia un matrimonio felice e questo è forse la nostra soddisfazione più grande. Ci sono tanti campioni premiati, tanti nomi importanti e ci sono esponenti di ogni tipo di sport e questo è veramente nello spirito della maggior partecipazione possibile ed è quello che contraddistingue il premio, ne siamo orgogliosi. È una grande soddisfazione, un grande valore aggiunto per la città che è un premio di questo livello, che promuove questi valori, sia immediatamente riconducibile a una delle, dal tempo editoriale non solo più attive sia nel sociale che nello sport e più in vista del nostro territorio. Questa è sicuramente un'ottima notizia per chi vuole che i valori dello sport siano promossi e che i valori dello sport ti permettono di raggiungere il risultato, ma di raggiungere il risultato in un certo modo, nello spirito giusto, nel rispetto degli avversari, nel rispetto degli altri, secondo le regole, secondo la correttezza che è propria, anche di quello spirito decubertiniano che ha segnato, o perlomeno che auspicava di segnare lo sport dell'era moderna. L'idea che i valori e la cultura che fanno da base al premio Fair Play possono contaminare anche altre località, in questo caso così importanti come Firenze, è un'idea che emoziona. Essere accolti nel palazzo di città dall'assessore allo sport ed essere considerati parte integrante della cultura della Toscana e di questa terra, secondo me è un grande traguardo che il premio ha raggiunto e anche offre la possibilità ad alcuni dei premiati che sono qui presenti di comprendere quanto prestigioso sia il premio. Chi viene dall'estero ha bisogno di queste conferme, a volte non sa cogliere quanto importante è il premio che gli sta per essere consegnato. Arrivare qui e rendersi conto che questa città ha patrocinato un premio significa ritornare a casa, ovunque ritornino all'estero, con la consapevolezza di aver ottenuto un premio straordinariamente importante.